eccoci qua siccome c'è voglia di imparare io sono qui per te per farti imparare visto che ti piacciono i miei video parleremo del food shortage della fame che ci fu in albania siccome io ho vissuto questa scena qua e siccome ho visto su facebook questo messaggio qua che dice insomma che stiamo per morire da fame tra poco e siccome io l'ho vissuta questa situazione diciamo questo dice chi ci fornisce la farina ci sta dicendo che stiamo usando le riserve mondiali di grano a causa di che il raccolto di quest'anno è finito per via di una raccolta scarsa e quindi usano le riserve insomma quindi siccome io l'ho vissuto questa situazione il trucco che diciamo i nostri amici che ci governano diciamo amici che usano è uno shock uno shock come hanno fatto per il succo che hanno messo che hanno iniettato alla pecora uno shock quindi lockdown e tanti disagi diciamo perché poi la pecora accetti la soluzione la pecora ha accettato questa soluzione ma serve un altro shock adesso ancora più forte e che prevede appunto il la difficoltà a procurare il pane questa foto qua in albanese dice mos haro never forget non dimenticare paura ma la paura dimentico perché anche gli albanesi hanno tutti bevuto il succo magico perché si sono scordati qui anch'io ho fatto queste file quando avevo dieci anni ero in albania gli anni 90 ci stavano stressando così l'albania avrebbe accettato il prossimo sistema che non era più comunismo ma un comunismo ancora peggiore mascherato da come lo chiamano democrazia e quindi c'era difficoltà la gente quando riusciva a prendere un pezzo di pane aveva fatto 13 proprio no e c'erano queste scene così diciamo l'aggianto non c'era farina insomma chi ci governa diciamo dall'alto blocca perché siccome noi non siamo la mente noi siamo come cellule la mente può ordinare a queste cellule di fare quello che vuole e quindi se loro decidono di farci morire di fame e loro ci dicono morire di fame e la paura esegue basta insomma gli ordini arrivano dall'alto dall'alto chiudono e tu non puoi fare niente e quindi per questo anche e chi ha fatto questi illuminati cards poteva benissimo prevedere tutto questo perché se noi vediamo la storia e loro questa roba l'hanno fatto da sempre quindi questa albania anni 90 stressa la popolazione non si mangia più infatti noi vennero addirittura gli italiani ad aiutarci con la mangiare in quegli anni perché altrimenti saremmo morti da fame e qui dice insomma ci sono libri che spiegano il problema non c'è la pane c'è niente e quindi che cosa fa la pegora quando non c'è da magna c'è sto casino e prende le armi in albania presero le armi e cominciarono a fare casino e con questa scusa chi sta in alto diciamo può e può avere può somministrare la soluzione che è più stato quindi più serpenti diciamo che ci controllano qui ho messo solo degli articoli che ho trovato così al volo su internet che spiegano la situazione misera che era in albania che molto probabilmente si sta per a riproporre anche qui mi è piaciuto questo chi ha scritto l'articolo questo 6664 parlano della carenze di di alimenti per fortuna arriva il pelicano un simbolo occulto dall'italia che aiuta i fratelli albanesi il pelicano si sacrifica perché da proprio pezzi una cosa che poi vedremo dopo questa acqua che dopo pezzi del proprio corpo ai suoi ai propri piccoli e questo è una è un simbolo di rinascita ci si tocca resurrection self inflicted wound its own breast and acceptance and acceptance of an appropriate symbol of both sacrifice and resurrection l'italia si stava sacrificando per dare da mangiare all'albania perché una volta sacrificata l'italia nascerà un nuovo ordine mondiale con meno stati però insomma possiamo sacrificare l'italia no possiamo servire l'italia perché abbiamo e anche albania tutti quanti sta diciamo perché abbiamo e quindi noi vedemmo guarda caso anche la parola pelican in english 33 barai praticamente siccome a noi ci avevano bloccato non potevamo andare al lavoro l'albania era povera però non è che ci avevano da mangiare insomma si poteva vivere abbastanza decentemente in albania però in quei inizi anni novanti cominciò questa crisi e noi diventammo dei straccioni i poveracci perché voglio vedere te insomma senza mangiare senza lavorare che cosa fai e vennero e venne il pelicano italiano 33 a salvare i poveracci albanesi ed ecco qua i soldati italiani i pelicani italiani senza cervello che non sanno che tutti i simboli qua sono massonici italiani va nella massonica bandiera albanese qua con il doppio l'aquila doppia testa e il pelicano in mezzo you cannot get more massonic than this arrivano gli aiuti insomma quando sei uno schiavo non puoi tu non ti puoi muovere decidono gli altri cosa puoi fare tu di tua iniziativa non puoi fare un cazzo la terra era sempre lì le cose erano sempre lì ma tu non potevi fare niente non avrai proprietà privata dice il clown Schwabla e sarai felice è benissimo e quindi io volevo così per chiudere siccome trovai cioè ma non è possibile che io ecco è possibile trovai queste foto rarissime che per me sono bellissime perché in Albania in quegli anni così di disordine così di casino che era l'inizio degli anni 90 era difficile anche avere ricordi fotografici perché l'Albania era poverissima non c'avevamo macchinetta fotografica però siccome i nostri fratelli italiani erano venuti con macchine fotografiche e quant'altro quando trovo foto così dell'Albania di quegli anni per me è oro proprio perché posso far vedere diciamo e approfitto per far vedere queste poche foto qua per far vedere insomma la situazione di miseria che c'era in quegli anni e io comunque siccome ci ho vissuto in queste strade qua perché questo è Durazzo dove ho vissuto io me la ricordo non così distrutta dal fuoco e tutte le statue spezzate ma lasciamo perdere tutta propaganda comunista questa però era tutto pulito ordinato eh però siccome serviva questo caos perché poi ci avrebbero ci avrebbero venduto l'Europa no? come lo stanno ancora vendendo questa Europa questo è l'Albania ragazzi noi ci divertivamo divertivamo senza applicazioni senza giochi noi creavamo i giochi c'erano fabbriche la che facevano cose noi vedevamo queste cose così li prendevamo li attaccavamo con fil di ferro così facciamo questa ruota un po' pesante che poteva reggersi se tu la spingevi con questa asticella così e noi ci divertivamo così e diciamo insomma qualcuno per non morire di fame prendeva una pecorella dove trovava un po' d'erba la faceva mangiare e poi magari aveva un po' di carne alla fine dell'anno non lo so insomma e qui ecco ci stavano vendendo la democrazia che a noi albanesi ce la vendevano come come l'opposto di quello che avevamo già il comunismo e quindi ce lo vendevano come infatti questo dice c'è una R qua e una D rinascita democratica rilindia democratica anche il titolo diciamo la scelta delle parole è molto diciamo massoniche perché è rinascita sappiamo benissimo le origini della parola rinascita però la pecore che pecore che era vabbè a quest'epoca per esempio anch'io ero bambino non ci sapevo niente però la gente era stupida ignorante vabbè è ignorante anche oggi quando l'informazione è lì pensa a loro insomma c'era un modo di informarsi c'era internet c'erano libri tutto controllato dal comunismo e ci stiamo arrivando a questo comunismo siccome io l'ho vissuto visto visto a chi a chi ti puoi rivolgere insomma non c'è testa ormai la maggior parte ha preso il succo magico quindi di cosa vogliamo parlare e gli altri quelli pochi che hanno un minimo di cervello di apostrofo io io sono dio ancora credono a questi minchioni ai malanga ai vari venditori di di fumo e quindi poi faccio questo video perchè mi piace comunque sto dicendo la verità poi i pochi che lavorano sono tanti ecco come ci inventavamo i giochi io ho fatto ho salvato queste foto che sono del signor giuseppe cocco l'ho scoperto adesso lui quando ero andato in albania con l'operazione pelicano fece queste foto io gli ho mandato un messaggio su facebook l'ho ringraziato che ha fatto questo video dove ha pubblicato tutte queste foto perchè ha dovuto scansionare perchè erano fotografie non digitali allora quindi ha dovuto scansionare il rullino e tutto quanto e per me è stato bellissimo perchè vedere queste immagini così pulite che sono rarissime da trovare ormai sono tutti ricordi bellissimi per me perchè era proprio la vita di tutti i giorni io avevo questa età diciamo quando stavo in albania un po' più grande magari dieci anni e mi ricordo questi giochi qua c'erano questi sei quadri quadretti che facevamo qua e dovevamo andare così con questa cosa di pietra così e altri tempi e qui volevo far vedere questa foto che è bellissima c'è un po' di propaganda nuova propaganda non più comunista ma europeista che dice please si prego dice qua il futuro dell'albania è nelle vostre mani prego la vota democratico partito democratico democratico ovviamente new world ora il nuovo ordine mondiale è un modo così bello per mascherare il comunismo insomma che è il nuovo ordine mondiale e infatti qua dice vota per pd questo qua è albanese per non è italiano questo vota per pd vota per pd però lo puoi leggere anche in italiano ma drittare dreit europos una finestra per l'europa verso l'europa verso il nuovo ordine mondiale belli la gente ignorante però è e qui la gente poteva avere una scusa ma che cazzo ne sapevano gli albanesi anni 90 ignoranti chiusi la insomma però dopo tutta questa conoscenza che abbiamo nelle mani non fa se frega ancora veramente triste veramente qui c'era un po' di miseria nei negozi che c'era quasi niente qui qualcuno sta comprando il burro qui si compra il burro dico questo era un negozio semplice si compra il burro e qui diciamo si tenta di comprare queste sostanze oleose che veniva usata per scaldare diciamo il cibo per cucinare diciamo un po' come qui in Italia insomma si usa il gas noi avevamo letteralmente si traduce olio di pietra che sarebbe qualche derivato pedrolifero diciamo che noi bruciavamo in casa con il fornellino lì per cucinare diciamo una roba una roba a muoverla insomma no e qui a un certo punto la gente come c'era vende per strada di tutto e insomma c'era la povertà c'era assoluta io voglio fare questo e poi c'era chi scriveva che ah finalmente via il partito socialista albanese c'è scritto qua che è come Hitler come il nazismo ah cattivissimi non rendendosi conto che la democrazia è è un nome mascherato per dire la stessa cosa comunismo socialismo alla fine la stessa cosa ma anzi ancora peggio perché almeno almeno il comunismo stavamo nella nostra terra e invece con il capitanismo e la democrazia siamo finiti per vendere sigarette come questo ragazzo qua poi a un certo punto ha forzato e vendere sigarette non ce la faceva più ha preso la nave è venuto in Italia perché non si poteva più vivere questo ti fa capire come dall'alto ci possono spostare come vogliono senza problemi perché controllano tutto e la pecora non studia non non si informa sceglie sempre la via più semplice e se becca la schiavitù finisce così avvende i biscotti per strada e l'autoradio anche ci provavano insomma a comprare da basso e arrivendo un po' più alto per fare due sordi per vedere come ce la facevano e poi per quelli diciamo che che erano un po' più spirituali perché insomma ci sono anche quelli cominciavano insomma la democrazia ci ha portato anche la religione in Albania non c'era religione e ci portarono Gesù secondo loro ovviamente un Gesù sorridente eh buono tranquillo come piace a loro diciamo insomma piano piano ci hanno messo sulla buona strada si 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 vedono i risultati con questo Gesù sorridente insomma vicino alle scarpette alle e alle caramelle qua c'è anche Gesù bellissimo amazing questa foto l'ho salvata perché mi ricorda un punto praticamente che io andavo d'estate qua perché qui vicino al mare dove c'era una mia cugina come si dice tipo zia eh e qui era tipo campagna mi ricordo c'era ricordi bellissimi per questo ho salvato questa foto qua non c'è niente di che e qui vediamo qui possiamo parlare di questo perché perché la ok adesso che ho chiuso il video perché ho spaccato i timpani posso parlare da solo ok ma io sono abituato a parlare da solo ormai quindi e quindi qua vediamo la io ci riesco a non prendere in giro la perché perché io e io non ce l'ho con quelli che ci fanno ste cose a noi no perché quelli so bestie no non te la puoi prendere quella bestia ma con questi che sembrano umani cazzo e la bandierina già stampata col colore dell'europa però ovviamente loro sono ciechi albanesi qua anni 90 un po' non potevano sapere tutti questi trucchi indietro da questo loro vedevano che gli avevano dato questa questa soluzione ah il partito democratico è l'opposto del comunismo quindi sarà tutta un'altra cosa con loro e loro prendevano le bandierine che erano già stampate no che dire senza parole e la V sta per vittoria ma anche il partito democratico era un simbolo per il partito democratico questa V bellissimo il cavallo la povertà non c'erano più macchine non si inquinava bellissimo però insomma povertà assoluta i i mezzi pubblici erano proprio un disastro perché a forza di rompersi non si potevano più aggiustare insomma un casino gente col pane e qua possiamo vedere dei post che ci stavano vendendo la democrazia e la democra nonna l'europa qua ah bellissimo sarebbe stato bellissimo se avessi potuto leggere cosa c'era scritto qua ma ci stanno dicendo ah bellissima Europa venite vieni pecora vieni che entrerai in Europa una nuova fattoria fatta apposta per te bellissima bellissima quindi eh la pecora è tutta eccitata fa queste due dita di vittoria no? un po' come fa oggi no? che ci vendono questa V no? il bellissimo succo magico no? e ci fanno col poluzione ah V V V no? anch'io mi sono fatto il V ah le cose le cose non cambiano mai insomma la pecora è sempre a pecora insomma con questo bel ragazzo qua con il suo cavallo e questa bellissima carretta così tutto così bello col cappello stanno al lavoro non c'è stato cazzo stanno io vi saluto eh insomma questo potrebbe essere anche il futuro dei riteni eh se questi ci 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 chiudono insomma non ci fanno più magnetici piano 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 si potrebbe arrivare a questa situazione qua e vista la stupidità della gente insomma non mi stupirebbe ok possiamo stoppare qua ai tantissimi visualizzatori di questo video io vi saluto e dovete avere pazienza fino al prossimo eccitante video ciao ciao